archi sex podcast oggi in compagnia di maria chiara virgili meglio nota come archi comica ciao chiara benvenuta ciao ciao grazie ciao allora chiara non so se hai sentito anche tu che c'è un'espressione americano inglese che si chiama slashers indica quelle persone quelle professionalità che fanno fatica a identificarsi con una parola sola no quindi sono diverse cose della mia vita tipo la storia della mia vita ecco esatto una cosa del genere ma qual è il percorso che ti ha condotta dove sei adesso tu ora racconti racconti storie di architetti e sei bravissima ma alle spalle hai un percorso anche molto diverso qual è stata la tua strada lungo e travagliato allora vabbè ovviamente laureata in architettura grande appassionata della storia dell'architettura ma anche della storia dell'ingegneria che ho studiato in maniera molto approfondita prima e durante e dopo diciamo l'università ma per più che altro proprio per mio interesse non ho dottorati di sorta sfortunatamente adesso mi pento di non averlo fatto sinceramente perché all'epoca poi ne presi un'altra strada ed è un po' appunto quella cosa che ho mi son tenuta dentro quella conoscenza che non ho mai non ho mai dimenticato quelle conoscenze di quei ricordi di varie letture di storie di personaggi che così tanto mi appassionavano me le sono tenute come bagaglio personale e però ho iniziato a fare la professione e subito appena laureata ovviamente ho fatto il mio esame di stato ho iniziato a lavorare come architetto nella maniera più tradizionale ma ho capito che il cantiere non era proprio arte mia non mi piaceva tantissimo e invece ero molto brava a comunicare il progetto di architettura stando dietro una postazione con computer e quindi mi sono specializzata in quella che è la rappresentazione digitale e in particolare 3d rendering e tutte quante quelle cose lì e insomma grazie a questa specializzazione in queste cose che poi insomma ho portato avanti col tempo mi ci sono messa io di buona lena perché erano un po' i primi sono stata forse tra la prima generazione di visualizer perché non si studiava ancora era cos'era 2013 2014 ancora c'erano pochi corsi di queste cose qui e sono riuscita tramite insomma grazie a queste a questo primo expertise che mi ero creata con queste cose perché mi esercitavo moltissimo facevo tanti tanti test da sola riusci incredibilmente ad entrare in uno degli studi ero a roma al tempo che era comunque importante in città era forse l'unico era e è probabilmente l'unico studio internazionale della città che era lo studio fuxas è ancora un studio fuxas e lì ho avuto la mia prima esperienza proprio come 3d artist all'interno di una realtà abbastanza insomma rivolta a progetti orientata su progetti molto grandi molto più grandi di quello che potevo aspettarmi quindi aeroporti centri polifunzionali cose gigantesche ed è stata un'esperienza molto molto importante e formativa per me perché si facevano tantissimi concorsi quindi era sempre un po' tutto organizzato con varie scadenze molto strette insomma una vita abbastanza presa e molto occupata su queste cose ma non contenta dopo un po' di anni mi sono trasferita a milano e ho lavorato per c per fed milano sempre nello stesso ruolo e ho continuato appunto a sviluppare insomma sempre più espertise su queste cose la faccio breve ho continuato a lavorare poi sempre in questo settore per altri anni in studi al di fuori come visualizer sempre libera professionista ma in uno studio di visualizzazione quindi esplicitamente orientato a quello non l'architetto dentro non c'era più ma era fuori come cliente quindi tanti clienti vari in particolar modo nell'ultimo periodo facevo tantissimo eventi sfilate e cose di questo tipo quindi immagini orientate quasi più sul retail magari o sugli allestimenti cose di questo genere sempre cose anche molto particolari finché finché non c'è stato poi il problema della pandemia che è scoppiata in questo paese che è proprio il momento in cui sostanzialmente il mio desiderio di cambiare un po' la mia vita si è combinato ecco con questa con questa situazione che stava emergendo in italia problematica però prima del del casino chiamiamolo così comunque prima del della crisi e della pandemia veri propria del lockdown eccetera ho deciso di cambiare davvero le carte in tavola perché insomma era un momento un po' particolare ero diciamo arrivata un pochettino allo sfinimento perché purtroppo il lavoro della visualizzazione chi lo fa probabilmente lo sa e insomma è abbastanza impegnativo erano davvero tantissimi anni che lo facevo e un pochettino diciamolo sinceramente non ne potevo più però però perché ho deciso di cambiare in maniera così repentina perché due anni prima avevo iniziato a lavorare nella comunicazione però di un altro tipo perché comunque per me fare visualizzazione comunque comunicare un progetto comunque comunicare l'architettura però ho recuperato quello che era il mio bagaglio precedente quindi le mie conoscenze però due anni prima ho iniziato semplicemente con un podcast quindi raccontando più che altro proprio le mie fatiche quotidiane i miei drammi i miei problemi quindi proprio una serie autobiografica che ancora c'è però insomma non la sto portando molto avanti ultimamente sinché ecco proprio durante la pandemia ho deciso di sviluppare una nuova serie podcast e di concentrarla proprio sul discorso cioè organizzare tutto quanto un nuovo progetto un nuovo programma un talk dedicato esclusivamente proprio alla storia dell'architettura quel famoso bagaglio che avevo e quindi è nato da andate architetti ma la cosa che io non mi aspettavo è che sostanzialmente potesse avere un riscontro positivo perché era una serie appunto dedicata esclusivamente all'architettura all'ingegneria della storia poi quindi non pensavo no ho iniziato così proprio un po anche la situazione insomma dovevo fare qualcosa ma non avevo assolutamente idea del che potesse piacere e soprattutto quale pubblico potesse effettivamente ascoltare attentamente le puntate e devo dire che poi dopo adesso sono passato sono passati un po di mesi ho come posso dire il piacere di constatare che gli ascoltatori sono abbastanza misti quindi è una serie che tutto sommato si è rivelata fortunata perché mi ha portato a conoscere tantissime persone del settore e quindi è stato anche proprio il modo per raccontare quello che sapevo che però era rimasto un po in espresso un po un po chiuso lì e quindi ecco questo è il mio passaggio nella comunicazione visiva dalla comunicazione visiva la comunicazione audio perché l'audio è la cosa che sostanzialmente mi riesce meglio sul video sono meno sono meno brava però insomma anche esito di un'esperienza nata appunto due anni fa per gioco e chiaramente che poi insomma mi ha un pochino formata anche sul proprio sulla narrazione sul sul discorso che ha a che fare proprio con con la produzione di podcast e questo è questa è la mia storia ecco ma allora dannati architetti podcast è un podcast veramente molto interessante perché tu racconti le storie di architetti molto noti molto famosi quindi diciamo sono i grandi architetti che si studiano anche all'università ma dal mio punto di vista quindi dal punto di vista di uno dei tuoi ascoltatori sei straordinariamente brava a mettere insieme notizie personali della vita di questi architetti quindi vicende anche magari private con quello che può essere più reperibile anche nei libri di architettura quindi i loro principali opere e sei molto ironica e secondo me molto brava anche nel mettere in evidenza come anche i più grandi hanno compiuto passi falsi hanno fatto hanno fatto errori quindi da questo punto di vista io credo che tu riesca a catturare molto bene l'attenzione di chi ti ascolta perché si impara subito che ascoltandoti c'è qualcosa che non si è mai sentito ma tu dove reperisci tutte le informazioni per creare le tue puntate cioè che ricerca c'è alla base dei tuoi dei tuoi podcast allora questa è un po la sintesi quello che è appena detto è un po la sintesi del mio nickname che è appunto archicomica perché è chiaro insomma nelle puntate cerco di inserire quelle note stonate quegli scheletri nell'armadio ma anche cose abbastanza divertenti particolari di persone perché quello che a me interessa è far uscire l'umanità o anche il contrario dietro a figure comunque importanti che però nei libri forse tu potrai confermarmelo nei libri di architettura quelli che abbiamo studiato all'università o anche dei racconti dei nostri professori non venivano poi ecco sviscerate tante cose più che altro era sempre tutto orientato solo sui progetti ma sulla vita personale si sa poco quindi questa è la chiave sicuramente un po di volta del progetto quindi raccontare i successi ma anche le sfortune ma anche tutto quello che li ha portati poi a diventare quello che sono diventati e il fatto del raccontarli però con questa chiave un pochino più leggera più abbordabile è quello che rende forse diverse le cose ed è sicuramente una conseguenza della mia ironia personale dell'essere riuscita in tutti i miei anni anche in studi molto grandi a che fare proprio con dannati architetti perché insomma ci sta di saper guardare il lato positivo anche quando insomma le cose erano erano sicuramente difficili e questa cosa è venuta fuori anche molto nella mia prima serie nella mia serie personale perché era un podcast molto ironico molto comico e quindi ho fuso un po questa mia identità sul mio modo di raccontare le cose in questa chiave con invece delle conoscenze dei dati la ricerca è lunga è lunga è abbastanza impegnativa perché io negli anni essendo appunto appassionata di storia ma anche di libri ne ho collezionati una quantità inverosimile tra l'altro alcuni li ho anche regalati ad amici architetti prima del trasloco dei miei genitori dove insomma gran parte di questi libri si trovavano però le mie monografie sugli architetti l'ho mantenute e quindi molto è ricerca sui libri ne compro tantissimi e poi vabbè ovviamente un pochino internet anche ci sta so dove andare a reperire magari delle informazioni però è soprattutto ricerca sulla carta ricerca sulla carta poi molte cose naturalmente le so perché le ho studiate perché fortunatamente posso dirlo ho avuto dei professori all'università e anche dopo perché le ho seguiti insomma un po' in i percorsi un po' d'assistente un po' per curiosità frequentavo moltissimo le loro lezioni e quindi un po' di cose naturalmente le so o comunque le ricordavo mi ricordavo magari una cosa particolare di Le Corbusier allora la vado a ripescare la vado a ritrovare insomma mi ricreo un pochettino quel ricordo lo ricostruisco però è una ricerca mista è una ricerca mista e chiaramente è la parte difficile di dannati architetti ed è anche la ragione per cui di fatto le puntate non sono molto ravvicinate perché naturalmente dietro c'è c'è tanto spulciare trovare cose proprio per rendere comunque le puntate un mix di informazioni di questioni personali di cose legate ai progetti poi diventa sempre più complicato perché un po' un po' come una matrioska tu cominci ok voglio parlare di questo personaggio allora quali sono i progetti principali questo questo e questo poi ti arriva a vedere singolarmente perché poi singolarmente scopri dei fatti inerenti magari a quel progetto per esempio lui can che è tanto famoso per la parte comunque strutturale dei suoi progetti e poi proprio ieri andando ad approfondire alcune cose su anything che era una delle sue assistenti di di fatto era lei quella che si occupava della struttura perché lui non ne capiva assolutamente nulla ed è una delle cose per cui è in assoluto più famoso queste strutture molto geometriche era lei che comunque insomma aveva orientato i progetti su questo stile molto geometrico perché capiva tantissimo di geometria di fatto è stata una grandissima ricercatrice dell'architettura geometrica e quindi ci sono sempre capito queste queste cose che scopri strada facendo e spesso le scopri anche dopo aver fatto aver pubblicato la puntata no quindi poi è bello integrare anche queste cose dopo ma secondo te questo tuo taglio narrativo quindi questo tuo equilibrio tra notizie personali dati storici potrebbe costituire un nuovo riferimento anche per insegnare questi personaggi nell'accademia o nelle università o credi che sia più una tua caratteristica talmente personale che difficilmente si può riportare a un contesto accademico io trovo molto interessante il modo in cui tu racconti le cose e ha un modo di catturare la curiosità che secondo me favorisce l'apprendimento però non so se è trasportabile in un contesto universitario perché è proprio una tua caratteristica molto personale e non è scontato che venga adottata da tutti quelli che insegnano non è detto ma guarda ti dico io ho ripeto ho avuto la fortuna di seguire docenti di avere professori bravissimi in storia e ti dico di più io al liceo odiavo profondamente la storia cioè ma proprio non era la materia per me perché purtroppo non ho avuto invece professori in gamba ma le lezioni che io ricordo benissimo ancora oggi in particolare storia dell'arte storia dell'architettura e storia dell'ingegneria venivano proprio raccontate anche in questo modo nel senso per quello che ti dico che molte delle cose che io racconto poi sono ricordi di queste lezioni perché i miei professori centravano comunque anche loro molto le informazioni correlandole al personaggio in particolar modo ti dirò di più le lezioni storia dell'arte è un'altra mia passione poi ci arriviamo però lì ha molto senso perché l'artista spesso manifesta se stesso nelle sue opere d'arte no nell'architettura c'è sempre questa lettura però è una lettura comunque pochino diversa nell'arte invece un manifesto proprio dell'artista stesso il burri che 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 cuce i vari sacchi di juta perché è stato un medico durante la guerra e quindi ricuciva le ferite c'è sempre questo discorso legato tra il personaggio la persona la l'artista umano e l'opera e stessa cosa credo che ha sempre senso raccontarla uno perché di fatto ti ti regala quel qualcosa per cui poi magari la persona si va a riascoltare la puntata dopo perché curiosa quindi quel fattore di curiosità ma poi regala anche quel senso di umanità o anche il lato particolare o difficile o non raccontato di certi personaggi che invece magari sono considerati super positivi poi di fatto non lo sono granché e i miei professori spesso e volentieri lo facevano io ho avuto una professoressa che ho seguito nel post laurea e la cito volentieri che è Tuglia Iori lei è docente ordinario di storia dell'ingegneria quindi architettura tecnica per chi fa ingegneria ed architettura che raccontava i vari ingegneri ma anche figure pressoché sconosciute o comunque meno note raccontandoli anche dal loro lato umano per dire Pierluigi Nervi che che risponde piccatamente al commissario che era andato a controllare il cantiere dice ma tu non hai ancora finito di progettare qui non è ancora finito di costruire e lui incacchiato che gli risponde ma guarda che io ho tutti quanti i conci pronti a fianco tu non li hai visti in realtà basta solamente montarli e qua in un mese abbiamo finito questo lato un po' un po' particolare un po' piccantino di Pierluigi Nervi ma chi te lo va a raccontare? Nessuno quindi i ricercatori chi soprattutto si occupa molto della ricerca nella storia e fanno questo sono secondo me se raccontano in questo modo sono sulla strada giusta perché io da studentessa o comunque che ho da ascoltatrice delle loro conferenze o delle loro lezioni che ne ho usufruito insomma ricordo perfettamente queste storie quindi se qualcosa che poi ti rimane e che è fondamentale nella narrazione perché altrimenti risulterebbe un po' pallosa come per esempio mi risultava al liceo e lo dico con tutta la franchezza del mondo infatti non mi ricordo niente mi ricordo veramente poco di quelle lezioni quindi soprattutto c'è un dato che secondo me è molto importante cioè nel raccontare le storie oggi bisogna partire da un presupposto secondo me che le informazioni sono ormai reperibili sono alla portata di tutti quanti quindi reperire le informazioni in realtà può richiedere anche molto tempo ma è una cosa che teoricamente possono fare tutti perché c'è un accesso alle informazioni che è praticamente illimitato quindi io credo che la ricerca della qualità che nei tuoi podcast vedo meglio sento è quella di dare queste informazioni in una maniera molto equilibrata molto composta quindi lo studio secondo me che tu fai non è solo nel trovare le informazioni ma anche nel raccontarle in una maniera che sia scorrevole che sia piacevole da ascoltare e da questo punto di vista io sento una tua vocalità quindi una tua voce che è perfetta per narrare quindi sono molto curioso di sapere se tu al di là del di tutte le le storie che racconti le informazioni che dai hai uno studio alle spalle sulla vocalità sul modo in cui controlli la voce sul modo in cui proprio parli racconti le tue storie lato vocale allora in realtà no nel senso non ho mai studiato audizione non ho una audizione perfetta assolutamente però forse perché appunto due anni fa ho iniziato a fare a fare podcast e mi ci sono buttata così ripeto per gioco per per mia voglia di tirare fuori di comunicare quello che avevo dentro e la sentivo proprio come come un'esigenza proprio personale ma perché il lavoro quel lavoro lì quello che facevo mi ha portata sempre di più a chiudermi perché è vero che tu comunichi con le immagini però non comunichi te stesso spesso e volentieri sei un pochettino costretto a fare quello che ti dicono un po' al solito e quindi il podcast era la mia via di fuga questo rapporto che si è creato tra me e il fare podcasting ha fatto uscire una parte di me che io non conoscevo e quindi pratica ho scoperto uno di avere una voce piacevole cosa che non avevo idea di avere assolutamente perché non mi sono mai messa non ci avevo mai pensato onestamente e anche poi pian piano come utilizzarla cioè capire come come fare bene le cose sia dal punto di vista proprio della registrazione mini tecnico sia dal punto di vista proprio della della dell'interpretazione della narrazione in particolare il mio primo podcast quello personale era proprio una un'interpretazione di quello che mi accadeva ma ero io sostanzialmente che raccontavo me stessa in maniera molto libera molto spontanea molto naturale come se stessimo effettivamente chiacchierando e questa cosa poi infatti il pubblico l'ha la percepita ho cercato di riportarla anche in nanate architetti che però differisce perché un pochino perché è più una narrazione di fatto io ti sto raccontando la vita di un'altra persona ti sto raccontando la mia però cerco di metterci anche quel mio quando magari mi capita di visitare mi è capitato magari di visitare un'opera che racconto durante una puntata cerco di metterci anche quella nota personale di quando effettivamente lo visitate che cosa mi ha mi ha trascinato oppure proprio cerco di far passare non è tanto una pulizia di voce secondo me una modo di di narrare perché io non so assolutamente farlo conosco narratori professionisti e non sono assolutamente una di loro ma nemmeno per idea però cerco di metterci quel trasporto anche personale la passione proprio che ho nei confronti della storia di questi personaggi di quello che hanno fatto di quello che poi anche le loro opere hanno dato a me nella mia formazione nel mio percorso professionale e di trasmetterlo in questo modo agli altri perché poi credo che ognuno trovi un pochettino la sua via nella vita e in qualche maniera il podcast si presta molto per veicolare le informazioni per fare divulgazione perché quella maniera quella pillola che ti ascolti mentre fai altro mentre lavi piatti o piuttosto stai non so aspettando l'autobus o stai correndo non lo so per cui ti consente di digerire delle informazioni di assorbire quella quella piccola quantità poi quanta ce ne potrà essere insomma alla fine sono storie di cultura di informazioni in maniera semplice di maniera semplice molto diretta e soprattutto io di questo ne sono ne sono certa sicuramente è il modo migliore per me è quello con il quale funziona meglio perché poi quando ho imparato a fare un po' comunicazione mi sono cimentata anche in altre cose ho provato a fare video ho provato a tante maniere però il podcast crea comunque l'audio crea quella situazione di intimità tra te e la persona che ti ascolta che è unica non nel video già la perdi secondo me un po' come la radio un po' come la radio per certo come la radio sì 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 un po' come la radio però la radio sai anche delle dinamiche magari di diretta di di cose che comunque la rendono un pochettino più alla giornata no quindi la durata di vita di un episodio radio se soprattutto se parla magari di attualità è molto limitata invece la storia non muore mai quindi tu un episodio di un architetto di un personaggio ci sono tanti comunque di podcast che fanno questo te lo puoi ascoltare quante volte vuoi e sta lì sono sono informazioni io cerco di fare una sintesi naturalmente perché non è che si può raccontare tutto di tutto di tutto di tutto non puoi poi il limite oggettivo oltre al tempo che io cerco di stare comunque sui 20 minuti tranne in casi eccezionali per esempio le corbusier dura quasi un'ora ma perché vabbè personaggio complicato c'era veramente tantissimo da dire e dovevo dirlo assolutamente avevo proprio la necessità l'obbligo morale di raccontarlo però non è solo una questione di tempo ma come dire è anche la scelta la scelta giusta di comunicare nella maniera più coerente dire quelle informazioni essenziali e cercare di fare un po' un po' una storia con un filo che abbia senso insomma non è che ti sto raccontando tutte le date tipo elenco telefonico poi la scrittura la scrittura lo rende lo rende effettivamente cioè c'è tutto quanto un lavoro poi ecco anche di editing cioè non solo fare ricerca poi devi mettere insieme tutti quanti tasselli gli architetti che racconti tu in apparenza sono legati dal fatto di essere tutti molto molto famosi molto molto conosciuti per ora sì ma tu che sei entrata nelle pieghe delle loro storie anche delle loro vicende personali c'è secondo te un aspetto che li collega o una caratteristica che li accomuna anche tra paesi diversi in tempi diversi cioè tu li chiami dannati architetti ed è una cosa anche ironica simpatica ma secondo te c'è qualcosa c'è un aspetto per cui sono c'è un fil rouge che lega tutte queste personalità allora sì ce ne sono diversi poi naturalmente hanno personalità diverse però è ovvio naturalmente una cosa che ho notato è che moltissimi di loro diventano noti diventano famosi ma le prime opere quelle che effettivamente li renderanno poi celebri sono tardi cioè arrivano al loro culmine già da adulti in età matura quindi questo sta a dire che non è che uno diventa famoso così dall'oggio al domani cioè anche loro hanno pedalato tanto poi chi magari è nato in situazioni anche familiari molto umili oppure chi è nato invece magari più facilitato per esempio Zadida aveva origini comunque nobili però ecco si sono scontrati con delle realtà che dovevano inventare loro perché non c'erano se ti parlo di quelli del moderno quelli del contemporaneo invece molto anche loro hanno insegnato per tanto tempo prima di trovare anche loro la loro identità e creare un movimento perché quasi tutti questi hanno in comune l'appartenere ad un movimento o averlo proprio coniato creato loro quindi chiaramente non è non è una una mestiere facile molto affascinante per esempio la storia di frank gary che anche lui insomma emerge emerge tardi e non passò però inosservato sin da subito nel senso che poi ha avuto modo di liberarsi un po' dei canoni tradizionali e ha dato via quello che è il suo lato estremamente artistico quindi diciamo che quasi la maggior parte non emergono subito vengono fuori tardi vengono fuori tardi e sono tutte personalità comunque ovvio estremamente legato al lavoro quindi quasi degli staccanovisti del lavoro che non stavano molto magari con la famiglia o che hanno avuto di conseguenze magari a livello proprio familiare o di rapporti difficili perché ovvio se tu sei quello che fai non è che puoi puoi più di tanto dare retta al resto quindi in alcuni casi sì situazioni familiari difficili complicate o magari relazioni con chi lavorava assieme a loro quindi per esempio il caso proprio più esplicito è lui canna che a un certo punto ha relazioni alla prima moglie che non ha mai lasciato con la quale aveva un figlio poi una figlia poi ha avuto una relazione con la prima sua assistente poi un'altra con la seconda assistente e con entrambe ha fatto figli quindi il giorno del funerale perché lui morì improvvisamente si sono ritrovati per la prima volta tutti quanti lì immaginati la situazione paradossale no quindi ci sono queste situazioni che poi un po riflettono quelle mancanze magari umane oppure quel lato che insomma non viene fuori espressamente dalle loro opere o magari un lato represso oppure insomma sono umani sono umani che si sono dedicati immensamente quasi del tutto al loro lavoro quindi ovvio che poi hanno delle delle complicanze su altri su altre sponde però è assolutamente normale io li racconto perché comunque hanno hanno realizzato opere che ancora oggi sono iconiche e naturalmente adesso io inizio da quelli da quelli più più importanti per poi arrivare piano piano insomma una serie continuativa che ho intenzione di portare avanti molto a lungo e poi passerò anche a personaggi meno meno noti perché insomma arriverà anche il momento di parlare di loro però insomma io alterno perché poi passo dal dal moderno al contemporaneo non c'è una vera e propria regola cronologica ecco non sto raccontando la storia in ordine per esempio il mio amico podcaster Marco Cappelli di Storia d'Italia lui racconta la storia d'Italia l'ha iniziato da un certo periodo e poi va avanti in maniera cronologica quindi tu a seconda della puntata capisci dove è arrivato ecco io invece no io vado un po' come come mi gira ma cerco comunque di di inserire sempre un filo conduttore tra una puntata e l'altra perché magari anche se indirettamente questi architetti da una puntata all'altra in qualche maniera si sono incrociati per qualcosa quindi è anche un modo per per menzionare o la puntata precedente per invitare naturalmente ad ascoltare quello che ho già ho già detto poi la cosa importante e questo per legarmi ad una cosa che volevo dire prima poi mi è sfuggita non è cioè io ovviamente non posso raccontarti tutto in una puntata perché devi fare una sintesi ovvio però la mancanza cioè il non è un difetto però è una ovvia carenza di dannati architetti è l'approccio visivo perché è un podcast quindi se io ti parlo di un architetto finché ti parlo della vita la posso raccontare a chiunque se ti parlo perché è una persona se ti parlo invece dello stile delle opere e di quello che ha fatto è ovvio che è una serie che si rivolge ad un pubblico che probabilmente o è già colto da questo punto di vista quindi conosce quell'architetto e lo comprende ancora meglio perché sa associare le sue opere a quello che io ti racconto però cercare di rendere visiva attraverso le parole un'opera architettonica con insomma tutta una serie di crismi e considerazioni varie è un po' una cosa un po' difficile quindi io cerco di integrare queste informazioni su Instagram perché pubblico sempre dei post con delle immagini e la storia in maniera approfondita proprio sul profilo e quindi questo è una cosa fondamentale perché è un po' il film per integrare appunto le immagini con la community sì e anche per coltivare un po' una piccola community interessata alla serie ma approfondendo poi con l'immagine che comunque la comunicazione visiva io ne sono portavoce perché l'ho fatta per tantissimi anni è fondamentale per comprendere poi di fatto un'opera quindi comunque quella è una parte essenziale perché va a colmare un po' la carenza indubbiamente di un podcast che parla di architettura l'architettura è fisica, è vera, si tocca, si vive, ci si entra però io te la sto raccontando a parole quindi è chiaro che è importante da questo punto di vista inserire delle informazioni legate alla personalità, alla vita dell'architetto perché altrimenti non avrebbe molto senso Chiara, allora per chiudere una domanda personale che secondo me insomma a me incuriosisce molto perché anch'io mi sto cimentando in podcast poi l'integro con un contenuto video insomma sto ancora cercando la mia strada ma trovo interessante l'idea di sedermi davanti a un microfono e dialogare con qualcuno o parlare anche di me però faccio un po' fatica a scoprirmi insomma a sentirmi naturale anch'io ho appena appena incominciato quindi è un processo però ho sensazioni positive nell'idea del farlo e anche mentre lo faccio pur non sentendomi ancora completamente a mio agio ecco in questa modalità ma chiedo tu cosa provi quando ti metti davanti al microfono e schiacci rec? cioè quali sono le sensazioni che tu hai nel raccontare queste storie anche nel momento io immagino molto intimo molto personale in cui tu registri e tutto il resto deve essere in silenzio perché altrimenti l'audio non è buono e quindi c'è un momento secondo me che è molto speciale almeno io lo sento così quali sono le tue emozioni in quei momenti? allora più cerchi di focalizzarti su quello che stai per registrare più magari crei tensione dentro l'idea e quindi poi non risulti naturale io cerco di raccontarlo perché poi per me è un racconto più che una lettura almeno questo è quello che vorrei che uscisse fuori perché non è che sto lì leggo cioè deve essere un minimo ci deve essere un minimo di trasporto quindi lo leggo come se lo leggessi a me stessa quindi come voglio che qualcuno mi racconti la storia di X persona quindi cerco di mettermi nei panni dell'ascoltatore e di farlo nella maniera più naturale possibile però non ci penso troppo perché più ci penso più è peggio mi metto lì e con calma lo racconto cerco ovviamente cerco di farlo nella maniera più pulita possibile quindi se sbaglio rifaccio però ecco con il tempo, con l'esperienza avendo fatto tante puntate non tanto di Dan Architetti perché non ce ne sono moltissime però insomma in precedenza quello naturalmente ti porta man mano a non lo so a prendere confidenza sia con il mezzo che che con il testo anche poi non so ognuno ha il suo il suo metodo perché c'è chi utilizza per esempio un un gobo chiamiamolo così un testo scritto una traccia c'è chi invece no e va completamente a braccio per esempio andare a braccio per me per un discorso proprio di racconto così dettagliato sarebbe un pochino difficile perché dovrei veramente ricordarmi tutto 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 e fare un discorso pulito sarebbe un pochettino più impegnativo invece su storie che magari sono più personali in cui puoi essere un pochino più te stesso si può fare è molto cioè ti crei un po' un filo conduttore di quello che vuoi dire non per forza devi avere tutta la traccia scritta io cerco di raccontarlo come se lo raccontassi a me stessa quindi sono anche un po' se vogliamo un po' una rompiscatole sul discorso della voce perché per il discorso che ti facevo prima cioè che il podcast è un un media molto intimo nel senso che tu si metti lì ascolti in particolare poi Danati Architetti comunque è abbastanza impegnativa perché come serie perché ti sto raccontandosi la vita però c'erano anche tanti cioè se te la vuoi ascoltare veramente e vuoi come dire acquisire delle informazioni ricordarle devi veramente ascoltarla con attenzione ecco il discorso cambia moltissimo però ecco se io dovessi mettermi ad ascoltare dovrei incollarmi davvero le cuffiette alle orecchie anzi non volermele proprio togliere cioè quindi deve essere proprio una cosa che io ho il piacere di ascoltare per cui per esempio io personalmente non sopporto moltissimo questo lo racconto sempre sarò una persona bruttissima non mi odiate però non sopporto moltissimo chi ha molte problematiche ma tante problematiche di dizione nel senso che soffro tanto poi la cadenza magari o regionale o la soffro molto perché la sento tanto quindi potrebbe infastidirmi a quel punto mi distrae dal concetto quindi anche per questo la mia volontà di cercare di essere più pulita possibile nonostante appunto io non abbia una dizione perfetta assolutamente però ecco ci sono delle cose che secondo me se vuoi fare il podcast un pochino devi cercare di epurare per migliorarti per renderti ascoltabile quindi un minimo di lavoro c'è naturalmente però ecco io sono sono così poi ci sono serie raccontate magari anche da narratori non professionisti ma comunque magari sono scrittori che però non fanno quello che non hanno una voce perfetta che non hanno sono ascoltatissimi quindi questa è una mia questione personale io sono molto selettiva da questo punto di vista per quello che voglio ascoltare io per cui ovviamente riascoltandomi cerco di essere no più più perfetta possibile però non è un perfezionismo che poi mi porta via un'infinità di tempo perché ormai ripeto è un po' un allenamento che ho fatto mi ha aiutata chiaramente a migliorare e quindi insomma adesso cerco lo faccio in una maniera abbastanza naturale insomma mi viene abbastanza bene spero e poi ogni volta c'è sempre c'è sempre quella piccola cosa che migliori ora l'annate architetti non è un lavoro di sound design perché fondamentalmente le tracce musicali sono sempre quelle non c'è questo lavoro qui però dal punto di vista della narrazione naturalmente raccontando di vita morte e miracoli di personaggi un minimo l'attenzione della devo riuscire a prendere quindi ci sta che la voce sia sia piacevole poi quella è un po' anche penso una dote un po' naturale è vero che si possono migliorare tante cose però il tono della voce è il tuo però è quello che ti rende che ti rende unico quindi allora dannati architetti podcast metterò in descrizione tutti i link della pad di spotify e di instagram io chiara ti ringrazio moltissimo è stata una chiacchierata molto piacevole complimenti ancora in bocca al lupo per tutto grazie grazie tantissimo mi ha fatto super piacere piacere mio a presto ciao a tutti grazie ciao ciao